Al Filippo di Tella termina senza né vincitori né vinti nel derby molisano, tra Termoli e i padroni di cassa del vasto Girardi. L'undici di Tommaso Coletti prende da subito il pallino del gioco, trema la retroguardia dei giallorussi adriatici sulle fiondate di Lorusso al quarto e i fiori una manciata di minuti più tardi. A metà tempo però gli ospiti sprecano con filogamo dinanzi alla porta di Petriccione. I locali rompono gli indugi e passano in vantaggio con l'esterno fiori, esulta lo spicchio dei tifosi giallo-blu. Alla mezz'ora gli altomolisani rischiano un calcio di rigore per atterramento, sempre di filogamo, che sull'azione rimane a terra infortunato. Proteste degli ospiti. Le squadre in campo non si risparmiano e il vasto Girardi si avvicina alla doppietta ancora con fiori, chiamato in causa dal compagno di squadra Bentos. Al minuto 35 il Termoli rimette in equilibrio la gara. A firmare il pareggio è Cavaiola, il quale svetta di testa sulla difesa di casa e supera Petriccione sugli sviluppi di un calcio piazzato, uno ad uno al termine dei primi 45 minuti. Ritmi molto intensi in avvio di secondo tempo da parte di entrambe le contendenti che premono per conquistare l'intera posta in palio. Da segnalare il solito calcio piazzato di Ruggero per i padroni di casa al trentesimo, Speralta Romano che nel termo di appresentando il posto di Defendi tenta la sortita da posizione centrale. Si fa notare poi ancora il vasto Girardi con Panaro, conclusione dai limiti dell'area non distante dalla porta difesa da Merelli. Le squadre lotteranno fino al termine per la conquista dei tre punti, ma il risultato resterà inchiodato sull'uno a uno del primo tempo. Al triplice fischio finale il direttore di gara Pascuccio di Ariano Irpino manda tutti negli spogliatoi. Termina sul risultato finale di uno a uno.